La guerra preoccupa, deve preoccupare tutti, ma deve anche fare in modo che ognuno di noi si adopori, non soltanto perché il conflitto possa concludersi nel minore tempo possibile, l'aggressione della Russia di Putin è veramente indecorosa, fuori da ogni logica persino della storia più recente. Al tempo stesso dobbiamo adoperarci per ospitare i profughi, che sono tantissimi, soprattutto bambini, donne. In questo senso abbiamo già ricevuto ieri la nomine da parte del capo della protezione civile nazionale, lavoreremo, oggi abbiamo incontrato le nuove prefetture, abbiamo creato un momento di coordinamento, lavoreremo perché nessun profugo rimanga fuori, perché la domanda peraltro che arriva dalla Ucraina è molto più articolata di quanto si pensasse, ma in compenso la offerta dei siciliani è altrettanto generosa e solidale, il che ci lascia bene sperare affinché si possa porre in parte fine al calvario di questi cittadini che non hanno alcuna colpa se non quella di essere entrati nel merino di una follia imperialista della quale si farà carico la storia.